Grazie a tutti. Dopo questo periodo di caldo intenso seguirà una fase più fresca caratterizzata da temperature inferiori ai 30 gradi e questa condizione persiste per tutta la prima settimana di agosto. Inoltre durante questa fase si verificheranno anche temporali. È un sollievo sapere che questa ondata di caldo che ha colpito non solo l'Italia ma anche l'emisfero settentrionale stia per attenuarsi gradualmente. Le previsioni di Giuliacci forniscono un quadro rassicurante sulle condizioni meteo future nel nostro paese nei prossimi giorni.